Sì Ma che volo Sì Però è andato dentro Eccoli Stanno arrivando Bella Così di Ok Che pulizia E il metto a livello 2 T'ho trovato Tutto be- Da nord-est Però non so da dove So solo che mi hanno beccato Allora... Ma sei ancora vivo? Sì 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 ma mi hanno beccato forte Nord-est 40 zone così Eh ho visto Loro avranno cerchio addosso prima di noi Loro Mi stanno beccando Iniziato Che cazzo Andiamo a stato Non ho visto Non ho visto vederlo neanche uno Cazzo sei Pezzo di merda Dove cazzo sei? Ok Oltre a collinetta Lì a sinistra Può essere? Vicino alla cassa sarà Lì c'è la cassa Potrebbe essere dietro la cassa Ma è nascosto Alla tua destra Alla tua destra Alla tua destra Ok L'ho sentito lì Esci in full auto e blastalo È alla tua destra probabilmente Eccolo lì Alla tua destra Alla tua destra Alla tua destra